ciao benvenuto su usare final cut io sono fabrizio questo è un nuovo tutorial dedicato al materiale 4k procediamo subito a vedere oggi quattro siti web che possono fornire materiale 4k ovviamente non sono tutti gratuiti alcuni sono gratuiti alcuni sono a pagamento alcuni danno una settimana di test in linea di massima diciamo vediamo facciamo una panoramica veloce su questi tipi di siti perché comunque il materiale 4k può essere molto utile se non dispone di camera se non sei una persona che arriva dal mondo della fotografia magari non hai nessuna intenzione di specializzarti nemmeno nelle riprese per cui se vuoi fare montaggio video